Lunghi applausi per le repliche del gran galà dell'operetta Liberty Festival all'ospitato all'Aurum di Pescara, protagonista una delle sue interpreti più amate, Daniela Mazzucato, soprano di fama internazionale, affiancata da Max René, Cosotti e Andrea Binetti, che ha curato la regia con le musiche seguite dall'orchestra del Conservatorio di Pescara, diretta da Giuseppe Fabrizio. L'operetta ha questo fascino, è un genere popolare, ma ha della qualità molto alta musicale, veramente abbiamo avuto questo incontro stupendo con il pubblico di Pescara, ma anche in genere è così, succede perché è trascinante, perché è allegro, perché ha del sentimento, è un genere che assomma tantissime cose, tantissimi sentimenti, tantissime cose irruenti, cose belle, cose di entusiasmo e poi c'è una confidenza, una confidenza che ci fa avvicinare al pubblico ed è questo che è importante, avere il contatto con le persone, con la gente. Si sono anche dei ruoli più facili da avvicinare, però l'operetta ha delle difficoltà vocali molto importanti, perché prima di tutto ci sono operette che hanno bisogno veramente di una vocalità importante, di una vocalità con estensione e anche abbastanza con un timbro, una sonorità brillante, perché l'orchestrazione spesso è molto ricca e allora bisogna che la voce emerga, perciò non è così facile assolutamente.